Morandi Pavimenti. Esperienza, garanzia e scelta nella pavimentazione. Morandi Pavimenti. Da oltre 30 anni, mette a servizio le sue capacità nel campo della pavimentazione e dei rivestimenti. Morandi Pavimenti. Commercia e colloca pavimenti in legno, materiale nobile ed antico, ormai sfruttato in molteplici soluzioni di arredamento moderno o classico. Morandi Pavimenti inoltre si occupa di posa incollata e flottante in differenti materiali, dal laminato alla mochette, al floccato, a quelli resilienti in gomma, PVC, linoleum, oltre a rivestimenti murali vinilici e tessili. Morandi Pavimenti si occupa inoltre di realizzare e installare passatoie, oltre a zerbini su misura in cocco, sintetici e personalizzati anche a intarsio, asciugapassi, tappeti industriali antinfortunistici e antifatica, barriere antisporco e antiscivolo. Ogni prodotto di Morandi Pavimenti può essere utilizzato in differenti ambienti, dalle abitazioni agli ospedali, dalle scuole agli uffici, dalle industrie agli impianti sportivi. Morandi Pavimenti, affidatevi a noi e troveremo la soluzione più adatta alle vostre esigenze.